Poteva andare peggio, è vero, e l'infortunio di Chiara Puccini in casa Valdarno Volley non ha riguardato l'interessamento di un legamento crociato, ma solo una forte distorsione al momento della ricaduta su situazione d'attacco nel quinto decisivo set contro Scandicci. E' altrettanto ovvio però che in queste settimane, almeno 5 se non di più di gioco, l'attacco nero celeste viene privato della sua principale bocca da fuoco, che ricordiamolo era stata già la migliore marcatrice anche nella stessa gara, che poi ha portato il primo stop interno della stagione, ma questa situazione si era venuta a creare almeno altre 6 o 7 volte dallo scorso ottobre. Così adesso, nell'immediato, c'è da studiare qualche alternativa offensiva per Barbara Biagi e lo stop di domenica prossima in campionato sembra arrivare nel momento più adatto, anche perché al ritorno in campo a febbraio c'è il secondo impegno consecutivo tra le Muramiche e anche il prossimo avversario spaventa, essendo la capolista Rimini, che ha già un margine di 6 punti in classifica dalle inseguitrici e soprattutto all'andata si impose con un perentorio 3-0 verso la Valdarno Volley. Tocca ad Ambrosi, Panucci e Tani, soprattutto sopperire dunque all'assenza di Chiara Puccini.